Salve a tutti utenti di Youtube, sono me e mi sacro Pumantuno e oggi vedremo un'altra partita di Crash Bash Andiamo Premio Per iniziare Però che l'audio sia più alto, quello ieri è un po' non conosciuto Nooo Buona musica Obbiettivo Lanciati contro gli avversari per buttarli via dal ghiaccio Raccogli il bonus, lanciato nel raggio, vince l'elemento degli avversari Raccogli contro gli avversari, non puoi lanciarti il giocatore a 0 E dentro l'arena, prendi il puntito a morte Non alza Lancialo ad un altro giocatore, raccogli il fun delle altre giocazioni 3, 2, 1, via E poi lo ricordo Che fail Ci sa come un altro? Ah vabbè Che fail Che fail in live Porca fu... Beep Ecco E' un altro giocatore E' un altro giocatore Oh no 3, 2, 1, via! Lo controllo tutti i modi! Vai frontando! E vai giù! No! A cazzo! Ragazzi! Un altro ferro! 3, 2, 1, via! Mi sto divertendo a movire e a giocare a sti vecchi giochi! Mio! Ahah! Adesso come la manchiamo? Ah! Poni i manoni! Va! Vieni qua! No! Vai giù te! Un altro! Che culo! Giù! Anche tu Cortex! Vieni qua! Vieni qua! 3, 2, 1, via! Vieni qua! Giù! Altra parolaccia! E vai! Capo! Giù! Porca moglie! No! Un altro fail! E vai! La bella questa ragazzi! Tutti contro quello! Via! Giù! Vai giù! No! Noio! Tu! Porca putana! Vai stupido! Faffanculo Nooo! No, questo è il betpullino Cagli No Porca miseria Via Stai intanto qui No No È stata più comattura dell'altro round Dall'altro Per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao